Aldo Montano nel 2005 se non sbaglio, quindi ci eravamo informati prima della finale che dire vincere oggi questo titolo europeo dopo tutto questo tempo, 19 anni, è qualcosa di assurdo è bellissimo, soprattutto vincere questa gara è qualcosa per me di immenso che viene in un anno un po' sotto tono, un po' dove non ho tirato benissimo, scusate l'emozione ma oggi è qualcosa di stupendo e credo di meritarmelo, è un'emozione infinita io quest'anno non ho mai mollato, ho sempre tirato tutti i giorni consapevole del mio valore e abbiamo lavorato insieme al mio maestro ogni giorno al massimo per poter vivere queste emozioni anche se con difficoltà è arrivata proprio nella mia ultima gara individuale di quest'anno e sono contentissimo perché è veramente il frutto di un lavoro che svolgo quotidianamente con il mio maestro, con il mio preparatore atletico, nella mia sala, la riccia scherma e devo ringraziare loro per farmi allenare nel migliore dei modi, il mio centro sportivo carabinieri e forse un po' di talento oggi c'è stato però si è vista anche un bel po' di bella scherma quindi sono contento di oggi è un bel regalo per la convocazione a Parigi la convocazione è stata qualcosa di immenso, ho 23 anni se devo guardare indietro al post Tokyo, ci speravo, ci ho lavorato però esserci ora con questa convocazione è qualcosa che non mi sarei mai immaginato prima ed è frutto comunque di anni di lavoro, di sacrificio c'è comunque anni in cui ho sempre creduto di poter arrivare qui questa convocazione è speciale con questa gara abbiamo dimostrato che comunque io ma anche i miei compagni di squadra siamo sulla giusta strada, abbiamo le giuste sensazioni e speriamo comunque di regalare emozioni del genere a Parigi